un libro tira l'altro di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici questa sera vi propongo una trasmissione per così dire parallela quella della settimana scorsa nella quale come ricorderanno gli ascoltatori più indefessi avevo parlato di un libro di Luigi Norossi sui rapporti tra letteratura ed economia e questa sera vi parlo di un libro che parla appunto del rapporto con un tema importante e i libri il tema importante è niente di meno che la vita la nostra esistenza ne è autore un sacerdote milanese Don Paolo Alliata che è anche rettore del liceo Montini che ha scritto l'avventura umana quando la letteratura accompagna il nostro cammino è pubblicato da Mondadori 196 pagine 18 euro a parte l'impianto il libro ha un altro punto importante in comune con quello di Bruno di cui abbiamo parlato settimana scorsa e cioè la centralità riservata alla figura di Pinocchio Alliata qui ricorre ai grandi libri per confortarci nell'avventura di diventare umani scrive egli stesso e per cogliere quanto la vita meriti davvero di essere vissuta e qui cita Chesterton secondo il quale la vita è la più bella delle avventure ma solo l'avventuriero lo scopre l'autore affronta dunque alcuni temi nei quali si estrinseca la nostra umanità compresa la ricerca di Dio e ci accompagna così lungo il lungo cammino per diventare umano come scrive egli stesso sul quale adesso ci tratterremo pochi minuti con l'autore buonasera Don Paolo Alliata buonasera Don Paolo Alliata una prima domanda che volevo farle che cosa ha spinto un religioso ad affrontare l'avventura umana attraverso la grande letteratura è perché noi cerchiamo nella scrittura dei grandi e delle grandi tracce di umanizzazione no sono i grandi scrittori le grandi scrittrici che ci dicono come si diventa unani come si affronta la grande avventura di diventare quel che siamo chiamati a diventare no quindi grande letteratura è da sempre un accompagnamento formidabile a guardare nel profondo il mistero del cuore dell'uomo della donna per capirci qualcosa noi leggiamo e ci ritroviamo e capiamo qualcosa di noi stessi desideriamo diventare come i protagonisti dei romanzi che leggiamo o desideriamo evitare di seguire lo stesso percorso ripetendo scelte sbagliate no noi impariamo perché leggiamo diceva Lewis noi leggiamo per scoprire che non siamo soli la grande avventura umana abbiamo tanto da imparare da chi ha trovato il sentiero no e allora con che criteri ha selezionato i temi e gli autori e le autrici del suo libro e qui devo spiegare che la mia è sempre in tutti i miei libri è sempre scrittura di rimbalzo meramente cioè io predico o tengo serate e conferenze e quindi i libri nascono sempre da una traduzione poi nello scritto di quello che leggo questo nello specifico questo libro raccoglie alcune serate che qualche anno fa ho dedicato a questo tema dell'avventura umana e il criterio di scelta non è particolarmente sapiente io racconto i libri che mi sono piaciuti e quindi mettendoli in fila nel desiderio di tracciare punto idealmente un cammino che attraversi le tappe fondamentali del nostro diventare umani di ognuno di noi ho messo lì alcuni capitoli dell'avventura umana quindi il capitolo del crescere dell'affrontare i passi di crescita magari attraverso anche la malattia il tema della guerra del conflitto il tema dell'amore il tema della morte con un punto di inizio che è il romanzo di Roy Lewis il più grande uomo scimmio del plesto cene che affronta il tema dell'evoluzione con molto umorismo e quindi con grande sapienza e concludendo il nono capitolo affrontando soprattutto Pinocchio e quindi il tema del diventare umani da quei pezzi di legno che tutti siamo all'inizio diventare carne viva un cuore pulsante questo è un po' il tema allora partiamo dal primo capitolo quello che lei ha citato quello sull'evoluzione l'evoluzione dell'uomo che passa lei scrive attraverso la scoperta del linguaggio parla di questo fenomeno presentandoci il racconto di Caino e Abele anche a parte altre testimonianze ecco ci vuole spiegare questo richiamo questo riferimento povero Caino Caino deve imparare a dire quello che lo abita la sua gelosia nei confronti del fratello la sofferenza di non sentirsi più al centro quindi è curioso perché nel racconto biblico il Signore Adonai soltanto a Caino che rivolge la parola non parla mai ad Abele gli rivolge la parola perché vuole aiutare Caino a uscire dal suo isolamento della sua solitudine da una condizione di morte che gli racconto in vari modi anche in un rapporto un po' esclusivista un po' incestuoso con la madre c'è tutta la complessità di una problematica di coppia tra Adamo ed Eva che si riversa poi sui figli e il Signore rivolge a Caino la parola per dirgli guarda tu stai vivendo un dolore profondo una profonda rabbia senti che il problema della tua vita è il tuo fratello non è così fallo emergere questo dolore portalo a livello di parole verbalizzalo perché questo ti aiuta appunto a diventare umano Caino è ognuno di noi nei nostri passaggi di vita in cui facciamo i conti con qualche cosa difficile da definire con questi pesi che ci portiamo dentro e facciamo fatica a verbalizzare a mettere a fuoco quindi anche in quel passaggio biblico troviamo lo stimolo a fare quello a cui siamo chiamati soprattutto in tempi come i nostri dove sono molto pronti a gridare a urlare ad attaccare e invece dice l'invito a scendere oltre la soglia della propria interiorità per chiedersi va bene ma io perché sto male perché sto male ecco questo è un passaggio fondamentale di umanizzazione direi un libro importante che regge un capitolo che a sua volta porta nel titolo la parola reggere è Il nome della rosa di Umberto Eco che secondo lei rappresenta un'intrigante tappa letteraria del nostro percorso dentro l'avventura umana il romanzo sembra mettere in dubbio che questa avventura abbia un senso quindi un'apparente contraddizione come mai ha scelto questo libro e perché lo ha scelto? beh una volta di più perché è un grande romanzo strepitoso la cosa su cui mi soffermo un po' di più nella prima parte del capitolo è così far emergere la constatazione che curiosamente il monaco Azzo di Melk che è l'io narrante inizia con una parola ferma sicura citando il Vangelo di Giovanni il parologo di Giovanni in principio era il verbo e ha una scrittura decisa in cui dice ma forse il modo migliore di stare al mondo è semplicemente di replicare la parola che ci è data la parola divina la parola della scrittura appunto inizia con il Vangelo di Giovanni e poi non so se Umberto Eco avesse inteso scriverlo così io rileggo questo man mano che l'anziano ormai anziano a Monaco scrive ripercorrendo la vicenda di quei giorni di tenebra e di sangue di tanti anni prima arriva alla fine a consegnarsi a una radicale sfiducia nei confronti dell'esistenza e quindi l'immagine dell'uomo che sta per sprofondare in un desertico nulla non c'è Dio non c'è un tu con questa relazione sfiducia anche nei confronti della parola stessa perché dice io ho compitato questo lungo racconto non so bene che cosa ho detto non so bene perché l'ho scritto né se qualcuno lo leggerà diventa un'immagine della sfiducia nei confronti della possibilità di raccontare quello che ha vissuto e sfiducia nei confronti di una parola che regga il mondo che dia un senso una passione all'avventura di vivere alla fine del suo racconto Azzo è assolutamente spento un po' cinico un po' deluso un po' disperato ecco quindi attraversare le pagine del romanzo mi fa venire voglia di dire ai vari Azzo della nostra civiltà che invece c'è tanto di bello di straordinario di cui essere grati per affrontare l'avventura di essere vivi cogliere il fatto di essere vivi come la straordinaria avventura da vivere no? non si riesce sempre a riaccendere gli Azzo di Melk dei nostri giorni però ci proviamo e la lettura del nome della rosa non so qualcuno magari lo trascina un po' giù in questa in questa malinconia un po' appiccicosa e altri invece ci risvegliano e ci fa dire no io voglio trovare altri sentieri per raccogliere la parola c'è quella pagina meravigliosa dove Umberto Eco descrive il ritorno di Azzo alcuni anni prima nel monastero che è stato distrutto bruciato nelle fiamme di quella notte incandescente anni dopo Azzo ci ritorna e fa questa passeggiata in mezzo alle rovine della grande biblioteca e raccoglie questi lacerti degli antichi codici dei libri perché spera di trovare una parola che sia rivolta a lui personalmente e quindi fa questa povera messa di lacerti di parole smangiucchiate cercando di trovarvi un senso e dice no non c'è nessun senso ecco io metto in rapporto quella pagina con il racconto il messaggio dell'imperatore di Kafka che va un po' in quella linea c'è un messaggio destinato a ognuno di noi però non arriva mai il grande l'imperatore l'ha mandato l'ha inviato ma tu non puoi riceverlo ecco invece il racconto biblico dice no il messaggio dell'imperatore c'è e ti raggiunge e ti ha raggiunto ti sta raggiungendo adesso quindi spalanca la porta e accogli lungo i sentieri dei quali ci ha parlato ci accompagna appunto anche Pinocchio Pinocchio lei dice manifesta un aspetto interessante perché appare come uno che non ce la fa e infatti poi lei scrive che in Pinocchio manifesta fortemente due virtù la volontà e la pazienza quindi questo Pinocchio si trasforma attraverso le sue avventure Pinocchio all'inizio non ce la fa ma ha la fortuna di incontrare educatori che lo sostengano e quindi il grande passaggio di Pinocchio è di credere all'amore del padre quindi tutta la seconda parte del racconto è in realtà questo l'amore di Geppetto la consapevolezza che Pinocchio ha dell'amore di Geppetto comincia a mettere qualche radice dentro di lui e quindi Pinocchio comincia a diventare capace un po' per volta di sradicarsi dal suo ombelico di venire fuori di andare oltre l'attenzione a soddisfare i bisogni primari comincia a entrare in una relazione con l'immagine del padre e l'immagine della madre o sorella maggiore quella che è la fatta dai capelli turchini quindi questo è il grande cammino di umanizzazione cominciare a prendere consapevolezza del fatto che noi siamo veramente noi stessi quando abitiamo le nostre relazioni fondamentali il padre con la madre con il mondo intorno e impariamo soltanto sbagliando il bello di Pinocchio che sbaglia tante volte anche quando intuisce che cosa va fatto non riesce a farlo quando riceve la promessa dalla Fatina di diventare il giorno dopo un ragazzino per bene ancora in contralucignolo e quindi ancora peripezie ma va bene questa è la nostra vita un po' per volta un po' per volta impariamo ecco Pinocchio deve imparare lui stesso che si impara un po' per volta ecco se dovessi dire la sintesi del mio percorso dentro qui nei vari romanzi è questo aver fiducia che noi siamo creature straordinarie un po' per volta impariamo ma per imparare bisogna avere pazienza e senso dell'umorismo allora le cose un po' per volta funzionano grazie a Don Paolo Alliata autore dell'avventura umana buona serata grazie buona serata a voi un libro tira l'altro ben ritrovati con Salvatore Carruba oltre che i grandi libri anche l'arte visiva ci può fare riflettere sui temi dell'essere umani chi conosce bene Parigi amerà certamente la chiesa di Saint-Sulpice a Saint-Germain-des-Prés dove nella prima cappella di destra avrà ammirato un prezioso ciclo di affreschi di Eugène Delacroix tra i quali a sinistra la lotta di Giacobbe con l'angelo e proprio da questa scena parte un filosofo un filosofo teoretico alla scuola normale di Pisa Roberto Esposito autore dei Volti dell'Avversario l'enigma della lotta con l'angelo pubblicato da Enaudi 207 pagine illustrate 25 euro sentiamo dall'autore lo spunto che l'opera di Delacroix gli ha fornito questo libro o almeno il suo primo nucleo è nato nella chiesa di Saint-Sulpice a Parigi dove su una parete della Chapelle de Saint-Agne era affrescato il più celebre dipinto della lotta per mano di Eugène Delacroix per quasi 30 anni ogni volta che sono stato a Parigi sono andato a vederlo come in una sorta di appuntamento segreto attirato più che dall'immagine splendente dalla trasfigurazione che mi sembravano sperimentare entrambi i personaggi avvinti nella lotta soprattutto l'avversario di Giacobbe canonicamente rappresentato anche da Delacroix come un angelo ma che nel corso del tempo e delle infinite interpretazioni teologiche letterarie artistiche cui è stato sottoposto ha cambiato di continui connotati assumendo quelli di un uomo e della sua ombra di Dio e di Satana del nemico e dell'amante fino a dissolversi nel profilo impersonale e imperscrutabile di un'avversità dai contorni indefiniti e tuttavia incombenti il libro dunque non parla di pittura oggetto delle considerazioni di Esposito sono i pochi versi una decina della Genesi nei quali si parla appunto di questo episodio abbastanza misterioso che l'autore interpreta come la lotta del protagonista con un misterioso avversario lo cito di cui non è chiara l'identità la provenienza la motivazione ma che tutto lascia pensare non venga dall'esterno bensì dal suo fondo inconscio fino ad allora rimosso e proiettato fuori di sé e dunque l'avversario è il protagonista del libro un avversario costantemente presente come conferma la frequentazione di questa scena biblica da parte di tanti artisti prima e dopo della Croix l'avversario in una lotta che non ha nulla di scontato che è insolubile come dimostra l'andamento del duello in cui vince ora l'uno ora l'altro dei due avversari un'altra opera d'arte diventa spunto per una riflessione in questo caso sui rapporti tra arte e potere nella novella dello scrittore tedesco Stefan Andres nato nel 1906 che abbandonò la Germania nel 1937 per raggiungere l'Italia dove sarebbe poi rientrato e fermatosi definitivamente fino alla morte che avvenne nel 1970 il titolo del libro è Il greco dipinge Il grande inquisitore è pubblicato dall'edizione Sette colori 64 pagine 14 euro ed è tradotto da Matteo Galli il libro è considerato uno dei capolavori di questo scrittore di Andres esponente di quella generazione di scrittori tedeschi che pur coltivando nell'intimo la loro sostanziale avversione al nazismo erano rimasti in Germania avevano continuato a scrivere che valse loro l'isolamento nell'immediato dopoguerra questo è effettivamente un libro importante nel quale troviamo il greco a prodare a Toledo perché chiamato dal potentissimo cardinale di Guevara grande inquisitore di Spagna il greco è preoccupato dalla commissione quella che gli fornisce il cardinale che vuole un ritratto lo svolgimento della quale commissione sarà intessuto di lunghi dialoghi con l'ecclesiastico nel quale appunto saranno approfonditi vari temi tra i quali questo del rapporto tra il potere e l'arte e un altro grandissimo troviamo al centro di un'opera narrativa questa contemporanea di Matteo Strucullo che è un apprezzato autore di romanzi storici e pubblica con Rizzoli l'oscura morte di Andrea Palladio 9,90 euro l'autore torna qui nella sua amata Venezia dove incontriamo il già celebre Palladio che sarebbe poi morto scuramente nel 1580 in questo libro siamo ancora nel 1569 il grande architetto è coinvolto indirettamente nell'omicidio compiuto dallo scapestrato figlio Leoni dai danni di un veneziano in vista Andrea dovrà darsi da fare per governare la situazione che condizionerà la sua esistenza futura fino alla fine in qualche modo prevista e preconizzata dal grande architetto Strucullo si attiene strettamente fatti accertati si è documentato sul libro di Palladio i quattro libri dell'architettura nel quale possiamo ritrovare ci spiega l'autore le sue convinzioni i suoi intendimenti le sue ispirazioni i suoi sogni e quest'opera di Palladio che era stata già pubblicata dall'edizione studio tesi 438 pagine 38,50 euro che ora compreso nella raccolta che uscirà tra pochi giorni trattate rinascimentali di architettura pubblicata nei millenni di Enaudi mille pagine 85 euro e veniamo al novecento con Picasso del quale in corsa a Milano a Palazzo Reale fino al 2 febbraio dell'anno prossimo la mostra Picasso lo straniero curata da Annico Enzolal assieme a Cécile Debré che è la presidente del Museo Nacional Pablo Picasso a Parigi il catalogo pubblicato da Marsilio Arte 40 pagine e l'interpretazione del termine che dà il titolo alla mostra lo straniero viene illustrato dalla stessa curatrice nel libro Una vita da straniero tradotto da Manuela Bertone per sempre per Marsilio 640 pagine 30 euro l'autrice sottolinea qui la difficoltà che a Picasso derivarono dalla sua condizione di emigrato di straniero la Francia gli aveva anche rifiutato la naturalizzazione e il Louvre gli aveva rifiutato la donazione delle Demoiselle d'Avignon e quindi qui viviamo questa condizione picassiana l'influenza che si esercitò nel bene e nel male sull'artista le emozioni che quel grande immigrato provò nell'immergersi nel clima vivacissimo della Parigi del Novecento quando l'artista vi si avvicina per la prima volta e dove sarà sorvegliato e marchiato come all'autrice hanno rivelato le carte sul giovane custodite nell'archivio della prefettura di Parigi e da lei minuziosamente studiate l'appoggio parigino non sarà facile andrà e verrà tre volte prima di tornare nel 1904 e installarsi in un luogo che diverrà mitico quello che descrivono queste righe che vi propongo in un angolo c'era la rete del letto su quattro pontelli su una stufetta di ghisa arrugginita era posato un catino di terracotta gialla che fungeva da lavandino vicino c'era un asciugamano e un pezzo di sapone posati su un tavolo di legno bianco in un altro angolo da un vecchio baule dipinto di nero era ricavato un sedile molto scomodo una sedia di paglia cavalletti e tele di tutte le dimensioni tubetti di vernice sparsi sul pavimento pennelli recipienti di solvente una bacinella per l'acqua forte niente tende nel cassetto del tavolo c'era un topolino bianco addomesticato che Picasso accudiva teneramente e mostrava a tutti questa è la fredda e meticolosa descrizione dello studio di Picasso fatta da Fernand Olivier che vi abitò per tre anni dopo tre tentativi falliti di stabilirsi a Parigi Picasso prende possesso dello studio dell'amico barcellonese Paco Durrio in un edificio che Max Jacob soprannomina Batou Lavoire al 13 di Rue Ravignon a Montmartre per cinque anni dal primo aprile 1904 al primo settembre 1909 è il suo unico domicilio Picasso si unisce a una comunità stipata in uno degli edifici più precari e fatiscenti della capitale che qualche decennio dopo verrà distrutto da un incendio mentre si è chiusa oggi alla National Gallery di Londra la mostra sull'incontro tra un sommo della pittura classica Piero della Francesca e uno dei più popolari e costosi artisti contemporanei David Hockney sul quale è fatta in tempo comunque vedere la mostra in corso a Los Angeles di Hockney esce I miei occhi sul mondo tradotto da Mariella Milan per Johan Leavitt 176 pagine illustrata 20 euro questa è un'antologia di parole ed immagini raccolta introdotta dal critico d'arte Martin Gafford che con Hockney ha avuto una lunga frequentazione che risale al 1995 l'artista spiega non solo ha una mente filosofica ma si sa esprimere parole con una meravigliosa semplicità e queste citazioni raccolte nei capitoli sui vari argomenti dalla vita all'arte all'ispirazione all'oggi danno alcuni esempi sorprendenti e spiazzanti del pensiero di Hockney ve ne propongo alcuni Pompei era alla Beverly Hills della sua epoca c'erano bordelli e dipinti ovunque il mondo è bellissimo e se non ne siamo convinti come specie siamo rovinati una volta non potevi essere gay adesso puoi essere gay ma non puoi fumare c'è sempre qualcosa di proibito il computer è un ottimo strumento ma per usarlo bene serve l'immaginazione l'iPad può essere quello che vuoi Picasso ne andrebbe matto e a questo punto il confettino abbiamo parlato di grandi grandissimi artisti e allora incontriamo Leonardo in una fase decisiva della sua vita quella del lungo e proficuo soggiorno milanese la troviamo descritta nel libro a Milano con Leonardo Andrea scopre l'ingegneria di Silvia Merialdo lavorata in fisica nucleare scrittrice di libri per bambini pubblicato dall'edizione idee dalla 92 pagine 14,50 illustrato da Gaia Loisio Emanuela Carbonara e Francesca Rivatti qui la ragazzina Andrea accompagna la zia per un convegno al Politecnico di Milano in compagnia del coetaneo Ping e a Milano scoprirà il Leonardo nella sua componente soprattutto scientifica e tecnologica di cui proprio nella nostra città ha lasciato tante testimonianze decisive e con questo ringrazio Luca Cremonese redazione Michele Previati regia vi ricordo il nostro indirizzo di posto elettronico librochioccio radiod24.it e il sito www.radiod24.it dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni vi auguro buona serata vi do appuntamento domenica prossima www.radiod24.it 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 Grazie a tutti.